buongiorno allora faccio questo video in realtà non tanto per fare tanti roll anche se andremo a farne alcuni ma per annunciare il fatto che mi sono aperto un secondo account di monopoli questo perché semplicemente per il fatto che mi posso scambiare gli adesivi nel senso tutte le doppione che troverò posso inviarle al mio account originale quello diciamo principale ecco cosa farò quindi ora ora mi invierò tutte queste carte da uno anche queste insomma potrei fare anche queste per accumulare dei dadi per poi quando troverò tante doppione visto che alcune andate farò molti tiri molti eventi mi passerò tutte le doppione buone sull'altro ma a prescindere ne passerò comunque tutte perché questo servirà è un account solo esclusivamente per passarmi le gli adesivi doppi per poi aprire i bauli inoltre con il forziere della comunità se ci sono io in mezzo prenderò anche 10 dadi perché ovviamente chi lo ha chi aiuta ad aprire prende i dadi quindi col mio account principale prenderò i dadi tanto facciamo qualche tiro a cosa importante anche l'evento all'evento è molto buono perché a questi livelli bassi come vedete non hanno non fanno chissà quale punteggio quindi è molto facile arrivare terzi e secondi a volte anche primi in questo caso direi di no perché il primo ha quasi 3000 punti comunque sia i tornei sono facili io sono già 346 ciao qualche tiro e quindi direi che ci arrivo facilmente ad arrivare secondo questo mi permetterà di fare altri dadi e di conseguenza fare inviarmi altri adesivi doppio due quindi io vi consiglio anche a voi di farlo se faccio un tiro per dieci va bene ne faccio un altro allora facciamo ancora uno quindi consiglio anche a voi magari di farvi un secondo account perché per l'appunto potete poi passarvi le doppione vediamo che cosa troviamo carcial tesoro caro cervo squame nebbia ecco per esempio io ho una doppiona quindi in questo caso qual è la doppiona questa faccio invia ad un amico cerco il mio eccolo qua principale e faccio seleziona e gli invio l'adesivo vedete in questo in questa maniera potete accumulare adesivi anche se non vi servono in ogni caso dopo potete aprirvi le baule magari baule più importanti ecco quindi questo è il mio consiglio e quindi vi farete un po di dadi un po di cose andiamo un attimino qui a migliorare gli edifici passiamo anche di livello livello 100 si sono molto indietro però per carità è un account che ho creato un po così veramente per solamente per gli adesivi anche perché altri utilizzi non è che possono avere ok facciamo qualche tiro a per tre dai ok scudi scudi fanno sempre comodo stazione distruzione quindi io vi consiglio questo qui è messo male sicuramente cade quindi io vi consiglio di farvelo un altro account per questo motivo qua poi per carità non può essere usato per chissà quale altre scopo però sicuramente guadagnare per fare per uno vediamo se mi fa un numero basso assolutamente no non può dicevo essere usato per altro però comunque sia ma sempre comodo avere degli adesivi gratis io appunto ho detto che me ne invierò da tre stelle poi sicuramente quando trovo doppione visto comunque mancano tanti giorni le passo tutte sul principale quindi io vi consiglio di farvi un secondo profilo un po per per tutto anche perché in ogni caso magari qualche adesivo potete tranquillamente passarvelo invece di richiederlo e niente quindi probabilmente farò molti video ora su questo account qui giusto per farmare un pochino e tenervi aggiornati e niente tutto ci vediamo al prossimo video